Jessica, Davide e Sofia, che fanno parte della sezione Clavinetti, vi faranno sentire la colonna sonora della Vitebella, un film del 1997 che vede il protagonista Guido Repice, un uomo ebreo, ilare e giocoso, che viene deportato con la sua famiglia in un lager nazista, che per proteggere il figlio gli fa credere che tutto ciò che vedono sia un gioco in cui dovranno affrontare prove durissime per vincere il meraviglioso premio finale, un carro armato vero. Grazie. 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 Grazie.